Ecco Maurizio, ma lei ci può raccontare nei giorni della guarigione quali sono state le cose che più l'hanno colpito? Com'è che ha cominciato a sentirsi guarito? O in miglioramento? In miglioramento, quando ci dovevo prescare, vedevo che non avevo bisogno di appoggiarmi un po' tanto. La portavo a presto quale le stampelle, però vedevo che non... al momento che sto bene, perché se sono dei momenti che sto bene, potrebbe essere un po' peggio. E io dico, ma voglio provare almeno a portare queste stampelle, ho messo una parte sul lettino, e sopra giù con la barriera, con la sede di rotella e basta. E vedevo che c'era un bisogno. Ah, dico, questo sono qui, devo provare a farmi pure una corcetta. Ecco, ho fatto questo, è un bisogno che ho avuto. Allora, la... cosa si chiama la... cosa si chiama la... La crozzina lì dell'interno, ho fatto una crozzetta. E mi rollo che andavo bene. E poi andavo volendo bene. Spanello a venire a trascogliare a correre. E tutti mi chiamavano, diciamo, ma che stai a fare? Caschia, s'attento. Io non cascavo. Proprio un ripuro bene. Diciamo che la cosa che più colpiva è questo aspetto del movimento degli arti che lei si sentiva... Non è che devo forzarmi per camminare. E dopo quanto tempo lei ha preso le stampelle e le ha messe proprio da parte? Subito. Io qui c'erano più stampelle da qualche volta a casa. C'eravamo solo quelle stampelle e poi sono quelle. Le ho riferito a casa quando mi sono messo. Ho preso le stampelle e mi sono messo da parte. Oh, e infine lei ha sentito questo miglioramento definitivo a ottobre, no? Ecco, ma ha avuto poi delle ricadute più o meno piccole in questo periodo o no? No, ma che cosa è successo? Secondo quanto abbiamo le vigile, poi avevo una piccola crattola che mi ha trovato da terra, e poi avevo un bicchiere d'acqua, così casco per terra. Ecco, ma oggi Maurizio, lei che cosa pensa di questo fatto che una semplice vitamina ne ha migliorato questa situazione. Ma io infatti, dico scusi dottor, ma come ha fatto a sapere che con questa medicina non si è pagliato tutta roba? Sì, non, dicono, io non lo so. Io ascoltavo la gente che aveva dei problemi sui e ho trovato il suo sistema. e per me è valido, infatti io sono da condizioni. Per tutti e tre, ogni due di questo non c'è. Perché con la settimana deve essere da metterci a certo. E' anche vero che la medicina più di più fa quattro, perché c'è chi fa quattro, c'è chi fa tre, chi fa due, perché non è una cosa esatta. Però a me mi ha fatto. A me mi ha scoperto che se fosse il 50 per cento delle condizioni sarebbe risultato a loro. Credo. Credo eh. Va bene. Ciao.